Per la ripresa e lo sviluppo del nostro Paese di seguito alla pandemia è essenziale che vi sia la riapertura degli spazi per la socialità in totale sicurezza. Non dobbiamo permettere che le norme anti-Covid ci facciano perdere il piacere della socializzazione. Vista la necessità di spazi legati alla collettività e allo studio, sono state aperte nuove allo studio nella nostra Università, la Sapienza di Roma, grazie alla nostra rettrice. Ma questo non basta necessitandosi di azioni concrete a livello territoriale. Un'idea concreta potrebbe essere la messa a disposizione di spazi come ristoranti e pub negli orari di minore affluenza per farsi da un lato che gli studenti possano utilizzare quegli spazi come aule studio, modalità caffè letterari e dall'altro una ripresa economica di tali spazi. Un'ulteriore idea concreta, visto il tempo perduto dato dall'allontanamento sociale, potrebbe essere l'apertura di spazi legati al confronto e alla condivisione di idee basate sull'ascolto e la valorizzazione delle esperienze dei più anziani.